Coinvolge dei più piccoli nell'educazione e la protezione civile. Questo è l'obiettivo della giornata promossa dalla comunità montana-sirentina in programma il 4 giugno dalle 9.30 a Castelvecchio-Subequo e che coinvolgerà 120 alunni delle scuole elementari e medie inferiori della Valle Subequana. L'iniziativa sarà curata dalla comunità montana con il proprio gruppo intercomunale volontari di protezione civile convenzionato con la regione Abruzzo, d'intesa con il plesso scolastico di Castelvecchio-Subequo appartenente all'istituto comprensivo di Raiano. La giornata formativa, dedicata alla diffusione della cultura di protezione civile, sarà orientata alla prevenzione e dalla mitigazione dei vari rischi a cui è esposto il territorio occidentino e sarà articolata in due parti. Teorica, con l'ausilio di video ad hoc per i ragazzi, nel centro di aggregazione giovanile, e dimostrativa, nella piazza Primo Maggio, con i mezzi e attrezzature in dotazione alla protezione civile della comunità montana. A formare gli alunni sarà il referente che cura il servizio, dipendente dell'ente e i volontari del gruppo. All'incontro parteciperanno, oltre al personale docente, i sindaci dei comuni della Valle Subequana e i rappresentanti dei locali comandi di carabinieri e carabinieri forestali.